Ragazzi, questo è il bucciottino che non è venuto tanto bene, è per assaggiare la torta di Pasqua, quindi veramente l'onore sta a me, tutta formaggiosa No, vabbè, vi siete superate, vi siete superate Assaggiamo, amico Assaggia, Fede, di bastante Assaggiate il bucciottino, un pezzettino per uno, vai No, ma chi è? Vai, il bucciottino, dai Ma che bucciottino? Dai, un pieno pezzo, no Assaggialo a te, che io Assaggialo a torta di Pasqua Che è cotta? È il bucciottino Assaggialo, no Assaggialo, assaggialo Guarda come margica il corpo No Sono le fiamme del debrrrr Ah, capo, 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 capo Il debrrrr Il debrr Eccolo il debrrrr Chi è? Il demone, bucci Ma, mi fici Il cattore È tutto nero No, sotto Chi è? Chi è? Chi è? Nonno 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 Chi è? Ma che mi fa fare portazione? Nonno Chi è? No Chi è? No Chi è? Chi è? the